Maestro Fabio Carone, il titolo di campioni italiano è semplicemente la ciliegina sulla torta di una grande serata, quella che a Fabio Carone Fighting Academy ha organizzato per la quinta edizione di Taranto in the Ring. Quanta gioia si prova in questo momento? La gioia è immensa perché la manifestazione è riuscita forse anche meglio di come ce l'aspettavamo, il pubblico si è divertito, c'è stato un discreto riscontro da parte del pubblico, della città ed era quello che ci interessava maggiormente. Ovviamente noi siamo sul territorio da parecchio tempo, non so che numero di manifestazioni è, ma noi ne abbiamo organizzate più di cento fra Taranto e provincia. Quest'anno con Taranto in the Ring 5 ci siamo un attimino superati perché fare praticamente due manifestazioni in una, sport da combattimento e fitness, non è stato proprio semplicissimo, però abbiamo capito che siamo alle altezze e quindi continueremo su questa strada. Una serata stupenda, un evento unificato, sport da combattimento e fitness, alcune delle mie allieve hanno eseguito 12 coreografie di fitness musicale, da quello sound, musica sound, musica latina e aerobica, quindi siamo soddisfatti, siamo stanchi, ma siamo soddisfatti. Dopo tanti anni Fabio è tornato sul Ring, sono contenta, sono fiera di lui e non avevo dubbi che avrebbe vinto.